Ciao a tutte e benvenuti in questo nuovo video Prodotti finiti, oggi vi mostro Una bella carrellata di prodotti finiti Li ho messi tutti qui in questo sacchetto Levis Ci sono tantissimi prodotti per quanto riguarda la skin care E sono prodotti che ho ovviamente terminato Prima che mi venisse la dermatite Abbiamo stabilito quale prodotto me l'ha causata Insomma l'acido glicolico è stato veramente aggressivo Sulla mia pelle, quindi non lo utilizzerò più Invece tutte queste cose che ho utilizzato Insomma non sono state la causa della mia dermatite Con alcuni mi sono trovata bene, con altri meno bene Quindi ve li faccio vedere subito, ne parliamo E così il video non verrà lunghissimo Primo tra tutti è questo latte detergente Che come vedete ho aperto per consumare tutto Questo l'ho proprio bevuto, questo prodotto Perché comunque è molto molto liquido Quindi ne ho usato parecchio per pulire il viso Ma l'ho utilizzato anche semplicemente per lavare il viso Non solo per struccarmi Ed è questo latte detergente alla camomilla Per viso, occhi e labbra Questo con estratto di camomilla bio di Venus Non mi è dispiaciuto, mi sono trovata abbastanza bene Strucca bene sia il viso che gli occhi Sugli occhi magari bisogna insistere un po' di più Magari con un panno in microfibra per togliere poi i residui Soprattutto di mascara E' un latte detergente come vi dicevo la camomilla bio E' formulato con oltre il 90% di ingredienti di origine naturale Ed è specifico per detergere con dolcezza le pelli secche, fragili e sensibili Lo avevo preso proprio per questo motivo Perché strucca dolcemente ed è proprio specifico per pelli secche e sensibili Quindi questo probabilmente più avanti lo riacquisterò Poi ho terminato, e anche questa l'ho bevuta in pratica Questa schiuma, questa mousse Detergente di CN Natures Questa però era una limited edition Quella appunto alla mandorla Ed è perfetta Io adoro le mousse Sapete che adoro fondamentalmente quelle di Avon La mousse proprio per lavare il viso Per struccare Però devo dire che mi sono trovata benissimo anche con questa In generale adoro proprio la formula Io bagno il viso, inumidisco il viso Poi prendo una noce di questa mousse Vado a massaggiare sul viso E poi vado a risciacquare Poi eventuali residui li tolgo sempre con il panno in microfibra E questa la riacquisterei Ma non la posso riacquistare più Perché vi dicevo è una limited edition Poi ho terminato parecchi prodotti per il corpo Perché così come ho la pelle secca del viso La pelle del corpo è ancora più secca E quindi ho cercato in quest'ultimo mese Insomma di idratare e nutrire il più possibile E quindi ho terminato questa crema di La Vera Che in realtà avevo aperto da un po' di tempo E quindi volevo portarla a termine È un latte corpo esotico Perché è un latte corpo al cocco e vaniglia Se non sbaglio Di La Vera Questo prodotto si contiene vaniglia bio e cocco bio È un prodotto insomma vegano Eco cert Con ingredienti 100% di origine naturale E mi è piaciuto moltissimo Perché è super idratante Soprattutto molto molto profumata Con una profumazione che si mantiene comunque nel tempo Mi piace la consistenza Super leggera Ci sono tantissime altre profumazioni Super super leggera che si assorbe subito Quindi questa soprattutto è una crema corpo Perfetta per l'estate E certamente la riacquisterò Poi ho terminato E questo l'ho usato per andare a letto Per andare a dormire Di Cleven Credo di averla presa forse da Da Eurospin Spero che si legga Perché con la lampada Coloring light Si legge poco Si chiama Prime Tenerezze Ed è una colonia No alcol Ed è una colonia di quelle classiche Per bambini Che sa di buono Sa di borotalco Sa di pulito E Un prodotto testato Clinicamente Senza alcol Come vi dicevo E io lo utilizzavo Utilizzavo questo profumo Questa colonia Per andare a dormire Sapete che mi piace profumarmi Anche dopo la doccia La sera E mi è piaciuta moltissimo E penso che la riacquisterò Poi Andiamo avanti Pesco così Quindi saltiamo Dai capelli Al corpo Al viso Non seguo Un ordine ben preciso Forse qui Potrei aprire Per Utilizzare un altro po' Di questo prodotto Allora Questo è uno scrub Viso biologico Di Omia E Questo è uno scrub Molto molto delicato Per il viso Esfoliante Purificante Che conferisce Un aspetto levigato Alla pelle Questo è All'aloe vera Sempre da agricoltura Biologica Prodotto Certificato Ecobio Senza oli minerali Né parabeni Né siliconi Né coloranti Ed è uno scrub Che può essere utilizzato Tutti i giorni Perché è molto molto delicato Anche i microgranuli Insomma Non sono eccessivi E questo In particolare Per pelli Da normali ammiste Io in realtà Lo utilizzavo Soprattutto Sulla zona T Che è la parte Del mio viso Meno secca Che tende Un tantino A lucidarsi C'è scritto Che può essere utilizzato Tutti i giorni Ma io Così l'ho utilizzato Saltuariamente Insomma È un prodotto Che non mi è dispiaciuto Vorrei provare Quello all'argan Che credo che sia Più specifico Forse per pelli Disidratate Quindi per pelli Che hanno bisogno Di nutrimento Comunque questo Non mi è Assolutamente dispiaciuto Questo scrub Poi ho terminato Questo prodotto Acquistato su QVC Di SBC Questo brand Inglese Se non ricordo male Simply Beautiful Collection E ho terminato Questo gel Per viso E per il corpo Alla lavanda Un gel Molto idratante Soprattutto Aromaterapico Perché con questa Profumazione Molto aromatica Di lavanda Era Come dire Una sorta di cocco Lacerale L'ho utilizzato la sera Dopo la doccia Quindi magari Al posto della crema corpo È molto Molto rinfrescante Come gel Sicuramente un prodotto Molto più adatto Alle sere d'estate Perché va A conferire Non solo idratazione Ma anche Freschezza E leggerezza Alla pelle del corpo E poi Questa profumazione Super aromatica Di lavanda A chi piace Ovviamente A me piace moltissimo E questo è un prodotto Che certamente Riacquisterò Perché L'ho trovato Anche abbastanza Valido Proprio come A livello Proprio di Di idratazione La pelle Bella Setosa Dopo aver massaggiato Questo prodotto Quindi assolutamente Lo riacquisto Ovviamente Sul sito Di QVC Perché Non saprei Viceversa Dove poterlo Acquistare Vi metto qui La scatolina La bustina Poi ho terminato Anzi no Continuiamo a far così Poi ho terminato Questo prodotto Di Avon Della linea Planet Spa Si chiama Treasure of Desert Con olio Con olio Di Argan Del Marocco E questo È Come dire Una Sorta Di Crema Con dei piccoli Microgranuli Per Lavare il viso Quindi è Una crema Detergente Per il viso All'olio Di Argan Del Marocco Con una Bellissima Consistenza Molto Molto Gradevole Molto Molto Leggera Con la presenza Proprio di Micro Particelle Piccolissime Che danno Anche una Sorta Di Esfoliazione Al viso Un'ottima Profumazione E È un prodotto Molto Leggero Insomma Non aggressivo Che può essere Utilizzato Da chiunque Insomma Con qualunque Tipo Di Tipologia Di Pelle Ovviamente Chi ha una Pelle Eccessivamente Sensibile Adesso Starò Molto Attenta Anch'io A quello Che Utilizzo Deve Stare attenta Non utilizzare Prodotti Eccessivamente Aggressivamente Scusate Oggi Sono un po' Così Aggressivi Però Questo è un prodotto All'olio di Argane Quindi Anche Molto Confortevole Nutriente Mi è piaciuto Moltissimo Sicuramente Lo riacquisterò Dopodiché Ho terminato Questa meraviglia Mi è piaciuto Moltissimo Ma ho acquistato Anche la versione Quella Neutra Se non ricordo Male E questo Gel Insomma Questo Oddio Non mi viene il termine Comunque Un Faisal Cleanser Quindi un gel Detergente Un detergente Per il viso In particolare Questo E allo yogurt E al miele Quindi specifico Per pelli secche Per pelli disidratate Io l'ho utilizzato Sia al mattino Quindi per lavare il viso Per darmi un po' Di una botta di energia E sia per struccarmi E mi sono trovata Abbastanza bene È leggermente schiumoso Quindi andiamo a fare Una piccola schiuma Morbida Sul viso E massaggiandolo Tiriamo via Il make up A me Struccava perfettamente Anche il trucco Degli occhi Poi ovviamente Faccio il passaggio finale Con il panno In microfibra Per eliminare Eventualmente Eventuali Residui di trucco Ma un prodotto Super super economico Della linea Appunto Avoncare E questo Ho già acquistato Un'altra versione Ma è un prodotto Che sicuramente Riacquisterò Perché mi sono trovata bene Poi anche Piuttosto economico Che non guasta Poi vi faccio vedere Questa schiuma da barba Che ho terminato Manu Ve la faccio vedere Così magari Se volete provare A prenderla Per i vostri mariti Fidanzati Fratelli E così via Della linea C&MEN E questa è una Shaving foam Nella versione Hydro Quindi nella versione Un po' più leggera Un po' più Idratante Che rinfresca Rivitalizza L'epidermide Facilita la rasatura Ma non mi ha detto Ne vuoi parlare Perché io mi sono trovato bene Poi Ho terminato L'ennesimo Ritocco perfetto Non vi dico più niente Serve per fare i ritocchi Non è quello Che mi piace di più E non lo riacquisterò più Perché ho trovato di meglio Ma ve ne parlerò Nel video dei preferiti Quindi vi lascio Con la curiosità Poi Andiamo a pescare Oddio Mi è successo un casino Però vabbè Ho terminato Questa crema viso Era un campioncino Che avevo trovato Non mi ricordo Dentro una confezione Forse di qualche crema Dell'erboristica Di Atenas E questa è una crema viso Da giorno All'acido ialuronico Con vitamina E E verbena Anche con questa crema Insomma Non mi sono trovata malissima Una crema idratante Antiossidante Quindi perfetta Insomma per le pelli Anche un po' più matura È una crema da giorno Quindi arricchita Con acido ialuronico Perfetta come base Per il trucco Che non contiene Derivati del petrolio Oli minerali Insomma Più ne ha Più ne metta Devo dire che Non mi è dispiaciuta Ma Insomma Non credo che La riacquisterò Insomma Adesso sono un po' più Concentrata Ad utilizzare Prodotti specifici Per pelli sensibili Quindi Però è un prodotto Insomma Che mi è piaciuto Anche molto leggero Molto idratante Credo di avervelo detto Perfetto come base trucco Ho terminato Questa crema mani Di Sephora Almonoi Profumatissima Buonissima Super leggera Ci sono una miriade Di profumazioni Di queste creme Sto buttando giù tutto Si assorbe facilmente Lascia la pelle delle mani Bella Idratata Ed elastica E sicuramente Questa la riacquisterò Magari In un'altra profumazione Ho visto che c'è anche Il cacao E vorrei prenderla Il cacao Scusatemi Ma prendo una cosa Scusatemi tanto Che mi è scivolata E ho preso Questo sapone Che non mi ricordo Dove l'ho trovato Ma credo In un supermercato Tipo un discount Si chiama Tweet me E come potete vedere Vaniglia E cocco Spettacolare Si sente anche così Dall'esterno La profumazione Veramente buona Una profumazione Gradevolissima Che persisteva Anche sulle mani E molto gradevole Insomma Un sapone liquido Per le mani Non dico che lo riacquisto Perché ce ne sono talmente Tanti in commercio Che mi piace Insomma Sempre provare Riprovare Poi ho portato a termine E non del tutto Perché ce n'è ancora Ma veramente ragazze Con tutta la buona volontà Non ce l'ho più fatta Credetemi Ho portato a termine Questo prodotto Il Mineral 89 Di Vichy Questo Siero Booster All'acido Ialuronico Che Appunto serve A fortificare Rimpolpare Energizzare Rendere la pelle Più luminosa Io Mi sono trovata Malissimo Perché Mi seccava Tantissimo la pelle Io vi ho già parlato In un video Dei flop Non mi sono trovata Assolutamente bene Per essere un prodotto L'acido ialuronico Non Idrata L'acido ialuronico È ciò Che più Idrata la pelle Anche se si chiama Acido Insomma Non pensiate Al fatto che sia Un prodotto Aggressivo L'acido ialuronico Forse è quello più delicato Tra i prodotti Insomma Tra i trattamenti Concentrati Per il viso E Insomma Io con questo Di Vichy Non mi sono trovata bene So che tante di voi Hanno avuto La stessa esperienza mia Poi ho terminato Questo deodorante Della linea Borotalco Fresh Freschezza Attiva Deodorante Senza alcol Con una profumazione Meravigliosa Che io adoro Sicuramente Lo riacquisterò Voglio di provarne Degli altri Sensazione di freschezza Io non sudo Tantissimo Anzi Devo dire Forse ho questo Difetto Tra virgolette Di sudare Poco E quindi Di non riuscire Anche ad abbassare La mia temperatura Corporea Soprattutto in estate Perché sudo Perché sudo davvero poco E invece mi accaldo Da morire Però devo dire Che questo prodotto Funziona Funziona veramente tanto Si sente nell'arco Della giornata E dà quella sensazione Di freschezza E non è assolutamente Aggressivo Anche perché È privo di alcol Poi Andiamo avanti Cos'altro ho terminato Ecco Rimanendo in tema Di prodotti Per il corpo Creme Oli Era da tempo Che li avevo aperti E vi dico già Che li riacquisterò Perché adesso Quando vado Da mio fratello In Francia Faccio scorta Ho terminato Della linea Tiki Tahiti I due oli Il Monoi Al cocco E l'olio di Monoi Con vaniglia Queste meraviglie A parte le boccette Sono strepitose Sono degli oli Appunto Per il corpo Credo che questi Siano proprio 100% naturali Ok E niente Io li adoro Questi dopo la doccia Sulla pelle umida Un bel massaggio La pelle è bella Idratata Nutrita Ma soprattutto Super super profumata Se li trovate Questi online Li trovate certamente Sui vari siti Siti che vendono prodotti bio E quindi Io avevo Quello al cocco E quello alla vaniglia Questi assolutamente Sono già Nella lista degli acquisti Che dovrò fare Quando andrò Da mio fratello Poi ho terminato Questa meravigliosa Maschera Pantene Questa maschera Intensiva Per ricci perfetti Una profumazione Ragazze Che ve lo dico A fare Paradisiaca Vabbè questa Questa l'ho portata Ai minimi termini E questa è una maschera Bellissima Proprio per I capelli ricci Una maschera Proprio da Da fare Insomma Dopo lo shampoo Quindi una volta Lavati i capelli Si mette sulla maschera Almeno io l'ho utilizzata Così Una sorta di balsamo Maschera L'ho tenuta su Sempre dai 3 Ai 5 minuti E l'effetto Bellissimo Di capelli Belli corposi E già una volta Che Vado ad asciugare A tamponare i capelli Si vede già La forma Del riccio Ora io non ho Più i miei capelli Proprio super super ricci Però Devo dire che Insomma Questo prodotto Me li Me li Ammorbidiva Tantissimo E mi dava la possibilità Di definire i ricci In maniera Molto più efficace Quindi Super super preferito Questa Sicuramente Questa maschera La riacquisto Ma ne ho veramente Tantissime Da portare a termine Poi Ho terminato Queste due creme Di Vivi verde copp La crema viso Rivitalizzante Protettiva Da giorno E la stessa versione Da notte Quindi questi due Flaconcini Devo dire che Quella da notte Pur essendo Una versione Quindi più corposa Più nutriente Era di più facile Assorbimento Quella da giorno L'ho trovata Leggermente più grassa Però devo dire Che per la mia pelle Assolutamente perfetta Sono due prodotti Specifici per pelli mature Li trovate alla copp Tutte e due Con olio di melograno Quindi Con questo forte Antiossidante Che ha un elevatissimo Potere antirughe Ed estratto Di rododendro Tutti provenienti Da agricoltura biologica Sono prodotti Assolutamente Certificati Ecobio Senza oli minerali Né siliconi Né profumi sintetici Giunti Né polimeri sintetici Insomma La formula Dei prodotti Ecco verde Di vivi verde Scusate Cop Sono veramente Eccezionali Non con tutti i prodotti Mi sono trovata bene Però Devo dire che Con la maggior parte Assolutamente Sì Ottima come base Trucco Quella da giorno E molto molto Idratante Nutriente Quella da notte Seppur Di più facile Assorbimento Rispetto a quella Da giorno Poi ho terminato Questa meraviglia Questa la riacquisterò Senz'altro Della erboristica Di Atenas Questa crema corpo Naturale Al cocco Intensamente profumata Rapido assorbimento Vellutante E idratante Con una profumazione Pazzesca Buonissima Un effetto bellissimo Sulla pelle E anche questo È un prodotto Insomma Formulato benissimo Quindi testato Contro le allergie Al nickel Credo che sia Anch'esso Un prodotto Vegano E mi piace Moltissimo Vellutata Di facile Assorbimento Gradevole Lascia un profumo Molto delicato Sulla pelle E con questa Appunto Profumazione di cocco Paradisiaca Buonissima Prodotto Soprattutto Perfetto Per il periodo Estivo Magari da portare Anche al mare E c'è anche L'olio per il corpo E quindi questa Molto probabilmente La riacquisterò Poi ho terminato Questa maschera Per il viso Purificante Di Lovea Anche questa L'avevo aperta Ormai da molto tempo Prodotto Senza peg Senza siliconi Senza Fenoxi etanol Per il 90% Con ingredienti Di origine naturale È un'argilla Rosa Quindi un'argilla Specifica Per pelli Secche Per pelli Molto sensibili Ultra delicata Io l'ho usata Appunto sul viso Perfettamente Deterso E asciutto Un piccolo strato Di argilla Appena Si asciuga E si ritira Un po' Di Scusate Ma si sta scaricando La batteria Una spruzzata Di acqua termale E per renderla Più facile Da risciacquare Risciacquo È Il gioco è fatto La pelle è bella Morbida Purificata Non secca Non tira È un prodotto Veramente molto Molto carino Molto gradevole Di Lovea Questa Io l'ho presa Da OVS Tra l'altro Poi Super Super Low cost Ragazze Poi Cos'altro Ho terminato Ho terminato Questo campioncino Che mi avevano dato Al tulipano Della linea Himalaya Herbals Questo Purifying NEM Face wash Questo gel Che però Non è adatto Alla mia pelle Perché la secca Tantissimo Perché è un prodotto Specifico Per le pelli Grasse E impure Secondo me Va benissimo È un gel Da poter utilizzare Tutti i giorni Questi sono Prodotti Certificati Ecobio Senza siliconi Senza parabeni Neoli minerali E tutto il resto È un prodotto Al NEM Quindi è Come dire Un purificante Un antibatterico Quindi perfetto Per pelli impure Con imperfezioni Ma sicuramente Non per le pelli Secche e sensibili E poi ho terminato Questo contorno occhi Di Avon Della linea Planet Spa Si chiama Greek Sears Io spero di Avere il tempo Di potervi inserire Tutto giù Nell'info box Tutti i nomi Insomma Di tutti questi prodotti E questo è Un contorno occhi Con estratto Di alghe E insomma Mi è piaciuto Mi sono trovata bene Un gel Leggerissimo Di facile assorbimento Super super Infrescante Che Idrata Benissimo Il contorno occhi Soprattutto Perfetto Per i contorno occhi Secchi E maturi Molto leggero Quindi poi Mi andavo a truccare Sopra A mettere il correttore Non mi ha mai alterato Insomma Non ha mai Fatto in modo Che durasse Meno Il trucco Cioè Il correttore Rimaneva bello fermo Lì Quindi questo Sicuramente Lo riacquisterò Questo contorno occhi Poi ho terminato Questo prodotto Che mi aveva regalato Mia cognata È una mini size Di Kiehl's Ed è il Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil In parole povere È un olio Botanico Per lavare Il viso Meraviglioso Meraviglioso Con una profumazione Super super aromatica Perfetto Soprattutto appunto Per la sera Strucca benissimo Quindi con un bellissimo Massaggio Non lo usavo Per struccare gli occhi Ma per struccare Il viso Con delicatezza Con dolcezza E questo è un prodotto Che molto probabilmente Magari più avanti Riacquisterò Una profumazione Proprio buona Buonissima Molto aromatica Che sa di Rosmarino Di salvia Ecco Quel genere Di profumazioni Ma la cosa interessante È che Lava il viso Veramente con estrema Dolcezza Restituendo Anche Moltissima Idratazione Quindi è un prodotto Fantastico E in ultimo Vi faccio vedere Questo Che è un prodotto Veramente che avevo Da tantissimo tempo Dovevo terminare E che voglio Assolutamente Acquistare L'ho detto Con convinzione Il marchio Si chiama Calderone Di Gaia Il calderone Di Gaia È un prodotto Eco bio Che si trova Nelle bio profumerie Ma anche online Sui vari siti Eco bio Ma credo anche Che ci sia il sito Di questo brand È olio della Dea Al cocco E vaniglia Questo è Un olio Con Olio di mandorle dolci Cocco Vinaccioli Argan Ribes nero Germe di grano Olio di jojoba E di ricino Quindi un prodotto Estremamente nutriente Proprio Nutrimento Per la pelle Del corpo Da utilizzare Io lo utilizzavo Anche concentrato Qui dietro le orecchie Come profumo Perché ha un profumo Meraviglioso Ma l'ho utilizzato Anche questo Dopo la doccia Sul corpo umido Bellissimo Perché poi L'olio si fonde Con l'acqua C'è questa emulsione Meravigliosa Che lascia una profumazione Che io Sento Anche nei giorni successivi Si diffonde Anche sulle lenzuola Sugli abiti È meraviglioso Ve lo ripeto Il calderone di Gaia Olio della Dea Al cocco E vaniglia Che io spero Assolutamente Di ritrovare Perché È semplicemente Come prodotto Paradisiaco Dunque ragazze Io vi ho fatto vedere Tutti i prodotti finiti Terminati In quest'ultimo periodo Spero che il video Vi abbia tenuto compagnia Che insomma In qualche modo Vi sia stato utile Che vi abbia fatto scoprire Magari qualche Nuovo prodotto Io vi ringrazio Vi mando Tanti baci come sempre E ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao